Granvillano, martedì verrà interrotta la luce elettrica, sono stati affissi degli avvisi per comunicare questa situazione che si dovrebbe verificare martedì. La risposta di Gelacentro è che non ci state? Assolutamente no, la problematica dei distacchi elettrici dell'Enel è una problematica che si verifica con una cadenza frequente e riteniamo che trattandosi di distacchi temporanei e non aventi caratteri d'urgenza e quindi programmati possono essere ben svolti in un fascio orario laddove non si creano problematiche all'attività commerciale, ai professionisti e all'utenza tutta. Quindi chiediamo all'amministrazione di voler intercedere con l'Enel al fine di valutare un protocollo di intesa laddove i lavori pubblici vengano fatti nelle fasce orarie delle 14, 30, 16 o 21, 8 di mattina al fine di non creare problematiche. Così come esiste un'ordinanza dirigenziale che obbliga i privati di poter svolgere lavori in centro storico durante queste fasce orarie. Quindi no a decisioni assunte unilateralmente ma eventualmente ad un accordo anche con voi? Assolutamente sì, riteniamo che non essendoci il carattere d'urgenza queste decisioni arbitrarie quasi dittatoriali che vengono poste in essere all'attività produttiva oltretutto in tempi così particolari e martoriati sono superflui quindi fare un protocollo di intesa dove loro possono svolgere gli ordinari lavori di manutenzione nell'impianto elettrico e noi, ripeto, noi attività commerciali, professionisti ma anche l'utenza perché c'è un'utenza del comprensorio che verrà ad esempio martedì e troverà tutte le attività commerciali chiuse. Quindi questo è un danno che si crea non solo alle attività commerciali per il mancato guadagno ma anche al centro commerciale naturale, in questo caso noi che lo rappresentiamo giuridicamente, il consorzio Gelacentro con un danno d'immagine per la nostra struttura commerciale. Sa se alcuni suoi colleghi si stanno organizzando con dei generatori per evitare l'interruzione delle attività? La gran parte dei bar, degli esercenti insomma che hanno materiali deteriorabili obbligatoriamente, non per volontà, devono organizzarsi con dei generatori di corrente alternativa il resto delle attività commerciali è molto difficile perché si tratta di generatori di grossa potenza molto ingombranti, oltretutto non particolarmente gestibili nel centro storico e quindi obbligatoriamente dovranno chiudere, così come la gran parte dei professionisti. Quindi lei lancia un appello, uno rivolto all'amministrazione comunale e uno invece a chi ha preso questa decisione? Sì, lanciamo un appello duplice, chiediamo all'amministrazione un intervento immediato per la giornata di martedì affinché questo non succeda. Oltretutto nelle comunicazioni dell'Enel non vengono posti nemmeno contatti per poterli rintracciare una comunicazione messa venerdì per martedì, considerando che oggi è sabato non sapremmo a chi poter contattare per intercedere al fine di evitare tutto questo.